Grazie. Eccezionale intervento chirurgico alle Molinette di Torino. Un uomo non vedente ha recuperato parzialmente la vista. Ce ne parla Laura Berti. Il signore Emiliano ha passato sei dei suoi 83 anni al buio completo. Oggi ha recuperato la sua autonomia. Prima dovevo essere aiutato per mangiare. Adesso mi aggiusto da solo. Le scale me le posso fare da solo. E questo grazie allo straordinario intervento eseguito per la prima volta al mondo da due occhi ciechi e un occhio vedente. Un autotrapianto di cornea allargato a sclera e congiuntiva. L'uomo aveva infatti un occhio cieco per la retina e uno cieco per una malattia della cornea. All'ospedale Molinette di Torino con il professor Michele Reibaldi e con il professor Vincenzo Sarnicola che è tra i maggiori esperti al mondo di chirurgia corneale. Ed ecco l'eccezionalità dell'intervento. Di due occhi malati ne abbiamo fatto uno sano. Abbiamo preso la parte anteriore dell'occhio sinistro e l'abbiamo innestata nell'occhio destro dove la parte anteriore era malata. E l'occhio destro fortunatamente ha ripreso a vedere. Un intervento che sarà replicabile? Direi assolutamente di sì. Sono condizioni estremamente rara ma avendo un paziente che abbia le stesse caratteristiche sicuramente potremmo riproporre lo stesso intervento sperando di avere lo stesso successo che abbiamo avuto nel nostro paziente. Dopo quattro ore di sala operatoria il signor Emiliano ha riaperto gli occhi quella che ha provato è stata un'emozione immensa. Mamma mia altro che è un'altra emozione questa perché ha detto ma adesso mi vedo la mano di nuovo insomma non mi so neanche spiegare. insomma non mi so neanche spiegare. insomma non mi so neanche spiegare. Grazie a tutti.